salve troverò con questa 528 della chiappa 3 biglie la prima in pvc da 3,6 grammi a 16 joule la seconda in acciaio da 7,9 grammi a 8 e 7 joule la terza una palla 50 da pancarica a 8 e 2 joule ma con più momentum che più pesante da 11,37 grammi vedete l'impatto su questa tavoletta prima tinerò a 4 metri di distanza prima la pvc da 16 joule perfetto adesso la palla di acciaio da 8 e 7 joule sarà più forte e resta quella di piombo a 8 e 2 joule ma più pesante e quindi più o meno la spostamento è stato maggiore dell'ultima palla anche quella di acciaio è andata bene quella di pvc però c'è da dire che anche se lo spostamento è uguale ma è a mio avviso maggiore per la palla più pesante ero di acciaio e di piombo c'è da dire che già lo sono inferiori sono circa la metà sono 8 contro 16 quindi ciò significa che il peso ha una certa valenza nei traumi contusivi e quindi di spinta per fermare un aggressore sia anche un cane randaggio che vuole agli occhi stop